Brevemente andiamo a vedere che cosa è successo ad Ascoli, campionato primavera 2, impresa della formazione di Luciano Zauri, il pallone dentro di Borrelli per Mattia Palladini che sblocca il punteggio, 1-0 Pescara, si gioca ad Ascoli, l'Ascoli di Cetteo Di Mascio, il grande ex, eccolo qui il tocco preciso di Mattia Palladini, nipote di Ottavio, grande ex centrocampista e capitano della Pescara. Ancora Borrelli, la sponda, il colpo di testa di giustezza, occhi negli occhi col portiere avversario sempre di Mattia Palladini, 0-2, poi c'è l'uscita di Sorrentino, portiere biancazzurro sui piedi di Persiani, molto bravo l'estremo difensore della Pescara, poi la grande azione di Pavone, Scimia, la sua conclusione, l'intervento del portiere dell'Ascoli e poi il calcio di rigore al 75esimo, l'intervento in ritardo di Zugaro su un giocatore avversario, l'arbitro è lì a due passi, indica il dischetto, realizza, trasforma in vernizi, 15 minuti all'epilogo della contesa, rivediamo il calcio di rigore spiazzato Sorrentino, il Pescara avrà la possibilità anche di segnare il terzo gol, gran sinistro di Muniz, entrato in corso d'opera, grande parata però, grande risposta da parte dell'Ascoli, del portiere dell'Ascoli, Primavera, esultano, festeggiano i giocatori della squadra, Luciano Zauri, primato, consolidato, grande partita, grande impresa, doppietta di Mattia Palladini, si è infortunato, Lisalde, che era il rinforzo della squadra di Luciano Zauri, dopo 20 minuti è stato costretto ad abbandonare il proscenio per problemi di natura muscolare, complimenti al Pescara Primavera, vicinissimo il ritorno al campionato di Primavera 1.